A te l'educazione non te l'ha imparato ancora nessuno, eh? Chi sei tu caputo? Vengano ammasciato proprio da parte del professore di Pesuviano. Ah, lo strums. Ecco bohami. Vi invito domani a mezzogiorno nel cortile per tirarvi con la molletta. Un duello. Ma va qui? Va morir così giovani, tu strunzil. Un duello. Sì. Grazie. 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 Che ora è? Le 12.10. Ma via non via, ora veremo. Non va bene o male a carne sul cielo? Un 48. Donato. Credo. Che è successo? La domanda il vostro avvocato. Dentro ci sta una lettera. Il presidente della repubblica concede la grazia e la medaglia al vadolo civile ad Antonia per essere riuscita a salvare con un atto di coraggio. Questa sì che era un presidente. Con un atto di coraggio. che ora sono? E ora si sono fatti le 12.30. O, ma la carne è un guappo di cartone. Un guappo di cartone. E' un guappo di cartone. E' bravo professore Vespiana. E' un guappo di cartone. E' un guappo di cartone. Un guappo di cartone. Grazie a tutti.